Dal punto di vista fisico Galano è l'unico giocatore che sta procedendo con un percorso di lavoro. Ferrari ha preso una brutta contusione a Pontedera, ha fatto un paio di giorni di lavoro differenza e poi si è aggregato al gruppo e sta bene, quindi di indisponibili non ce ne sono, c'è soltanto Galano. Per il resto, cosa devo dire? L'allenatore è l'anello debole della catena, io credo che questa sia una squadra ben allenata perché i nostri problemi sono altri, ma quelli di un po' di inesperienza in alcuni momenti, di poca cattiveria agonistica, cattiveria non significa rompere le gambe agli avversari o avere delle condotte sportive eticamente immorali, no, però un po' di attenzione, un po' di concentrazione, un pizzico di esperienza in più in alcune situazioni, però quelle cose sono cose che si acquisiscono soprattutto per alcuni ragazzi col tempo, però di contro ci abbiamo anche, anche se sembra un paradosso dirlo in questo momento, anche tante qualità, perché comunque questa è una squadra che gioca, poi io personalmente condivido anche quello che si dice e poi personalmente sono perennemente insoddisfatto, certo che dobbiamo fare di più e per fare di più ci dobbiamo mettere testa e anima e cuore che sono i due aspetti più importanti perché poi tecnicamente abbiamo qualità, questa è una squadra che dal punto di vista tecnico ha qualità, io sono abituato a valutare i fatti, le parole poi se non vengono seguite dai fatti lasciano il tempo che trovano, per quello che riguarda il dopo Pontedera, ma vedete quando si fa questo lavoro non è che ci si abitua, fa parte del gioco, l'allenatore è nello debole della catena, ma ripeto ero deluso, amareggiato, ma non perché avevo chissà quali pensieri, io pensieri non ne ho, incazzato perché avevamo perso la partita, voglia poi a dire come, come, in che modo l'avevamo persa, ma l'avevamo persa e quindi commettendo i soliti errori, eccetera, e magari avendo episodi sfavorevoli, quindi tutto normale, le parole servono a poco, bisogna passare ai fatti, io sono abituato a valutare i fatti. Ma guardi, ma dal punto di vista lavorativo le settimane qui sono state sempre serene, questo è un contesto di lavoro importante, qui non c'è una cosa che ci manca quando lavoriamo, devo dire che il lavoro sul campo durante gli allenamenti quotidiani è sempre fatto bene, quindi c'è grande partecipazione, perché poi è anche un ottimo gruppo oltre ad avere qualità tecniche, certo c'è qualcuno che ha bisogno di essere un po' più formato dal punto di vista professionale, però l'impegno non manca mai, il contesto di lavoro è ottimale, perché obiettivamente il modello organizzativo su cui ci alleniamo è oltre la categoria, pescata non è una piazza che merita questa categoria, però siamo qui a provare a ricucire uno strappo, a provare a non far arrabbiare i nostri tifosi, anzi a dargli meno delusione di quelle che gli abbiamo dato fino adesso, ma gli intendimenti sono buoni, poi io ripeto, io come tutti gli altri sono sempre i fatti che contano, noi adesso dobbiamo metterci i fatti. Abbiamo anche dimostrato di cambiare, ma l'abbiamo fatto anche precedentemente, insomma anche nel periodo iniziale di campionato, quando abbiamo vinto qualche partita in più, e quindi in tanti momenti l'abbiamo vinta perché abbiamo anche modificato, secondo la partita l'assetto tattico, però non è importante, ripeto, i numeri sono numeri, nel senso che le posizioni in campo devono essere definite, ma non sono statiche, il calcio è, ripeto, è movimento, quindi può essere sì, può essere no, ma come prima valuterò in base a chi sta meglio a Parigi, in base a chi sta meglio, ad esempio nel reparto di centrocampo, davanti, eccetera, sceglierò chi sta meglio, chi è più positivo, chi sta meglio dal punto di vista fisico, chi ha più, non motivazione perché le motivazioni ce le hanno tutti, chi è più pronto, chi è più positivo in questo momento, perché poi alla fine si è sempre allenato, anche se lui negli ultimi 15 giorni un po' alla ripresa, dopo le partite ha avuto un paio di intoppi, 15 giorni fa un fastidio al ginocchio, per cui alcuni allenamenti li ha saltati, Ferrari è un giocatore che deve lavorare, più lavora meglio sta, quando lavora poco, perché è un giocatore che ha necessità di lavorare, è pronto, sta bene, sì, 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 sì. Le ultime partite, quella col Teromo è stata una partita sotto tanti punti di vista importante, quella a Cesena è stata una partita per alcuni punti di vista importante, poi ci siamo abbassati di 20 metri in campo, a parte l'iniziale della stagione questa è una squadra che avendo lavorato ha fatto subito bene, aveva dato subito l'impressione di… Poi è chiaro che sono sempre gli interpreti, poi lo so che se abbiamo dei centrocampisti, piuttosto io chiedo di più a quelli che stanno fuori, ma che invece hanno avuto anche loro l'opportunità, voglio dire ha giocato Rizzo ultimamente, anche se con qualche problema, Giambò, non hanno dato tantissimo, è lì il problema, sono sempre gli interpreti, non sono… però è la prima parte… Ma ce ne sono diverse, ne abbiamo fatte diverse, buone, ma con la Regione è stata una partita molto buona, ma di che parliamo? Abbiamo subito, non rito, abbiamo subito tre golli regolari, perché è così, abbiamo capovolto la partita con merito, perché dall'1-0 siamo andati al 2-1 per noi, dallo 0-1, abbiamo capovolto con merito perché evidentemente avevamo idee, equilibrio e tutto, poi dopo siamo incappati in due stupitaggini, perché abbiamo preso un calcio d'angolo, ecco, in esperienza, un calcio d'angolo battuto a sorpresa, che ci hanno giocato a due e ci hanno pareggiato la partita, assieme anche a qualche errore di valutazione da parte degli altri, partite con l'Ancona, quella è la nostra faccia. Ma guardi che questo è un girone, l'ho già detto, questo è un girone tosto, che ha sorpreso anche me, fra virgolette, ma mi sono reso conto subito, non ci sono squadre deboli, non ci sono squadre, le outsider, fra virgolette, hanno tutte qualità, sono tutte squadre organizzate, anche perché, devo dire, il livello e la media degli allenatori nella categoria, ma questo già avviene da un po' di anni, l'ho detto anche precedentemente, è molto cresciuto, quindi sono tutte squadre toste, dove il risultato non è determinato, anche la Lucchese ha perso alla fine, per dire, con la Reggiana, che in questo momento è prima in classifica, quindi le partite si vincono in campo, non attraverso le gerarchie, le gerarchie a fine campionato le determina la classifica. Una squadra che gioca a calcio, una squadra aggressiva, una squadra che gioca su ritmi alti, elevati, una squadra che ha anche qualità davanti, perché ha tre giocatori importanti, una squadra che è strutturata bene, come ho detto prima, abbessati deboli, non ce n'è. No, no, Rauti e Clemenza sono entrati bene, sono entrati bene in partita domenica scorsa, mi sono piaciuti, certo che sì, ma è un ragazzo giovane che ora sta meglio rispetto a due mesi fa quando è arrivato. Rauti può giocare dappertutto, lui ha giocato anche in un 4-4-2 esterno a destra o esterno a sinistra l'anno scorso a Palermo, ha fatto pure dietro Lucca, che era la prima punta a Palermo, il giocatore sottopunto, Rauti è un giocatore che può giocare in tanti ruoli nel reparto offensivo.